Cultura, arte, Sicilia con la nostra guida Attention please Look at me, look at me Oggi visiteremo questo bellissimo sito archeologico bizantino Da questa la data la rappresentazione è di un paese che faceva parte dell'impero bizantino ma non sapeva se rimanere o meno Poi vide Afghanistan, Turkmenistan, Pakistan e pensò qui tutti stan, stiamo pure noi Ci scusiamo per il disagio Da questa la data il ritratto di un dentista bizantino che si lariò in matematica cambiando la proprietà commutativa dell'addizione in Cambiando l'ordine degli addendi il dentista se ne accorge Ci scusiamo per il disagio Dalla la data di fronte a voi delle bellissime lastre di marmo incise e decorate dedicate ai faraoni chiamate anche stele ma che per motivi di tempo purtroppo oggi non visiteremo perché come dice anche la canzone le stele sono tante milioni di milioni che sono dei faraoni Ci scusiamo per il disagio Attention please Look at me Look at me Pubblico è pagato ovviamente ride così